Più che astenermi dal votare, dice proprio perché sappiamo che l'alternanza destra-sinistra è una presa per i fondelli, cosa dovremmo fare? Scendere in piazza con i forconi, sapendo che tutto sarebbe represso con la forza? Il massimo della mia disapprovazione è non prestarmi al gioco. Che alternative ho? Allora, io dico la mia, poi Diego dice la sua, poi passiamo anche a questa altra questione della quale dobbiamo parlare oggi, che fa il paio con quello che abbiamo detto fino adesso. Io credo, caro Fabio, il mio pensiero, il mio parere, un'idea, e qui bisognerebbe aprirne un tavolo di discussione, perché io ho la mia, poi Diego adesso dirà la sua, e molti di voi avranno altre opinioni. Chiaro che scende in piazza con i forconi, insomma, è una cosa un po' antiquata, e devo dire, a meno che... Ma non trovi nemmeno i forconi poi? Non li trovi. A meno che la massa non sia molto, molto importante, non serva a nulla. E poi, diciamo, l'opzione violenza è sempre da mettere in fondo alla lista proprio, possibilmente nasconderla proprio, perché quella è un'opzione che non piace, credo, a nessuno, a nessun uomo di, diciamo, di buona volontà, o comunque nessuna persona sana di mente, ovviamente preferisce l'opzione violenza. Quindi la violenza, accantoniamola. Però c'è un sistema, e cioè far soffrire quello che loro amano più di tutti, cioè il mercato. Se noi non ci pieghiamo alle logiche di mercato e rimaniamo in un ambito più sobrio, io credo che poi loro dovranno adattarsi al nostro sistema. Cioè, faccio un esempio, se noi non smettiamo di comperare le cose che vogliono che noi comperiamo, ovviamente mi riferisco alle cose che sono superflue, che sì, sono simpatiche, divertenti, ci fanno piacere, ci fanno delle serie televisive, e quindi l'ultimo modello, l'ultimo cellulare modello che se dobbiamo poi accettare tutto, adesso ne parliamo, eccetera. Quindi, o anche altre cose totalmente inutili, ci riprendiamo un po' la natura, usciamo a passeggio tra i boschi, nelle foreste, nei boschi, tra gli alberi, al mare, in montagna. Cioè, ritroviamo il piacere di incontrarci per la strada, invece che fare le call, capito, online. Andare a comprare il nostro oggetto al negozio fisico, piuttosto che farcelo arrivare a casa. Tornare indietro su queste abitudini assurde, idiote, del dovere a tutti i costi fare lo shop, comprare online, e quindi tornare ad una vita più normale, questo, a mio parere, è una ottima forma per dare un messaggio alle elite che stanno premendo troppo sull'acceleratore. E questo è quello che accade in molti paesi del mondo, anche se voi non lo sapete. Noi non lo sappiamo, cioè noi sì lo sappiamo perché facciamo questo lavoro, ma voi non sapete che nella stragrande maggioranza del mondo, e quindi quello non cosiddetto occidentale, accade questo. Le persone ancora si incontrano per la strada, si salutano. Se si devono dare un appuntamento, se lo danno in piazza, no online. E non fanno le aperiscene così, oppure quando stanno a mangiare al ristorante tutti quanti, non stanno tutti quanti con sto cellulare così, che non si parla più. Nessuno si parla, stanno tutti col cellulare a guardare i cavoli rossi. Invece è bello anche tornare a mettere un po' il mercato all'angolo. Quella è una forma sublime di protesta, o quantomeno anche di recupero dell'identità naturale dell'uomo. Recupero della nostra naturalità e anche della nostra privacy, e anche della nostra autonomia, anche autorevolezza nei confronti di noi stessi e nei confronti del prossimo. È chiaro che questo è un obiettivo complesso da raggiungere, però questo è il top. E da qui ai forconi c'è una serie di vie di mezzo che secondo me potrebbero essere messe in pratica. Però voglio sentire che ne pensa Diego su questa ipotesi, e soprattutto sulla domanda di Fabio. Ma dunque, io sono d'accordo con te, caro Fabio. Direi immediatamente di no ai forconi, alla violenza e a tutti i metodi che anziché usare la pazienza della cultura e della costruzione di un'egemonia vogliono percorrere la via breve della violenza. Già è stata percorsa, abbiamo visto gli effetti nefasti che ha prodotto, e quindi direi di no. Ben sapendo che la violenza è il nostro nemico, e che la società capitalistica si fonda sulla violenza quotidiana, dobbiamo dare una risposta basata sulla cultura, sulla coscienza, sull'organizzazione strutturale di un movimento organizzato che trasformi in energia pratica le nostre idee. Ben sapendo che ciascuno di noi da solo conta poco, ma se ci uniamo cominciamo ad acquisire un peso specifico, anche in azioni rivendicate, azioni di classe, vengono dette con l'inglese in auge la class action, azioni di classe come quello di un diverso modo di consumare, di stare insieme, hai detto benissimo, vanno accuratamente evitate queste piattaforme digitali che impoveriscono la popolazione e i lavoratori, perché è vero che magari ti fanno risparmiare un euro, ma al tempo stesso chiude poi chi quelle attività le esercita localmente, quindi impoveriscono sul lungo andare, ma nemmeno troppo lungo in verità, l'intero territorio. Bisogna ragionare in questi termini di consapevolezza, perché la globalizzazione tra i tanti effetti nefasti è quello di distanziare la sofferenza. Noi con le nostre azioni quotidiane, quando premiamo sul tastiere e acquistiamo una merce a costo più basso online, senza saperlo, facciamo soffrire dall'altra parte del mondo persone la cui sofferenza mai vedremo, e anche di questo bisogna essere consapevoli, e quindi occorre a mio giudizio saper intrecciare il maximum della critica della società capitalistica con il minimum dei concreti gesti di cui essa deve sostanziarsi. Ne voglio citare uno che mi colpì particolarmente, che cito quasi maniacalmente, l'esempio dei fabbri spagnoli che si rifiutarono di eseguire gli sfratti esecutivi per conto delle banche al tempo della crisi. Ecco, questo è un piccolo gesto quotidiano che rivela una volontà oppositiva ben consapevole. Come del resto dobbiamo sapere che l'ordine dominante è tollerante e permissivo, fintanto che non vede messe in discussione le proprie regole e le proprie fondamenta. Quando le vede messe in discussione allora interviene anche pesantemente, come abbiamo già visto in passato. Quindi bisogna soprattutto lavorare su un piano culturale, di creazione di una visione condivisa, di allargamento del consenso verso la critica della società di cui siamo abitatori. Questa è la via da seguire, a mio giudizio. Quella, se vogliamo dirla platonicamente, dell'accompagnamento fuori dalla caverna del maggior numero possibile, non con la violenza, ci mancherebbe. Il filosofo che ridiscende nella caverna non costringe nessuno con la violenza a uscire dalla caverna, ma prova a persuadere con il logos i cavernicoli circa l'esigenza di uscire verso la luce. Questo è il compito fondamentale e questa è, a mio giudizio, ma mi sento confortato dal fatto che un filosofo di primo ordine come Platone l'abbia detto molto meglio e molto prima di noi, è la intrinseca carica politica della filosofia. La filosofia è intrinsecamente politica nel suo movimento di ricerca della verità e di critica della falsità di cui si sostanzia molto spesso la polis, anche la cosmopolis contemporanea. Bene, 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 sì. Siamo assolutamente d'accordo su questo. Il problema è che purtroppo però oggi in questo paese poche persone riescono ad affrontare questo tipo di consapevolezza, questo tipo di discorsi, per poi mettere in pratica i comportamenti necessari a far cambiare idea alle élite dominanti.